Noi dobbiamo cominciare a pensare di mettere al centro di tutto la persona, è quello che dobbiamo mettere al centro, il futuro lo giochiamo con al centro la persona, noi siamo degli animali, snaturati finché si vuole dalla tecnologia, da tutto quello che è giusta, ci fa vivere meglio, ma rimaniamo sempre quelli dei nostri progenitori di Paleolitico. Quindi noi siamo quegli animali lì che hanno bisogno di una socialità. Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno, ai più nota ancora come ASCOM, l'Associazione dei Commercianti, già presidente della Camera di Commercio di Belluno, che poi si è fusa con quella di Treviso, è diventata la Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti. Ora Paolo Doglioni siede nel consiglio, nel direttivo, nel gruppo dirigente della Camera di Commercio di Treviso Belluno. Vorremmo chiedergli del suo incarico, della competenza che all'interno della Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti gli è stata affidata. È un incarico che sicuramente il presidente Pozza ha voluto concedermi perché il turismo è una delle leve più importanti per i nostri territori. La Camera di Commercio è il punto di snodo di tutte le categorie del territorio e quindi il turismo deve essere una squadra composta da tutte le categorie economiche proprio perché è il territorio player importante per il turismo. E nel territorio sicuramente il commercio, i ristoranti, gli alberghi, i bar, i rifugi sono importanti ma altrettanto importanti sono tutti i lavori portati avanti dall'artigianato, dall'agricoltura con i prodotti tipici e anche dall'industria perché l'industria dà lavoro al fondo valle, il fondo valle popola il territorio e questo è importante e non tralascio di sicuro gli impianti di risalita che sono importantissimi per tutto quello che fa turismo. Presidente, proviamo a spiegare in parole semplici per chi magari non lo sa, non diamo per scontato che cos'è e che cosa fa la Camera di Commercio. Appunto è un organismo che mette insieme, mette attorno a un tavolo tutte le categorie produttive ma in qualche modo fa anche politica per il territorio. Sicuramente, è un ente autonomo di diritto pubblico la Camera di Commercio, purtroppo falcidiata da leggi che l'hanno penalizzata fortemente ma il ruolo della Camera di Commercio è fondamentale per il territorio proprio perché è il punto di raccordo fra tutte le categorie imprenditoriali e non solo, anche i sindacati e non solo, anche i consumatori. Tutto il mondo civile partecipa alla Camera di Commercio. Con questo occhio particolare sull'economia di fatto, no? Sull'economia del territorio. Sicuramente, l'economia è il punto fondamentale ma l'economia è fatta da tutte le categorie. E poi vorrei dire una cosa, le Camere di Commercio non hanno finanziamenti statali, si sostengono solamente con i finanziamenti che derivano dai diritti annui e d'altro delle categorie attraverso la Camera di Commercio. Perciò non è un qualche cosa che pesa allo Stato ma dà moltissimo allo Stato, anzi c'è un ritorno di denaro che le Camere di Commercio mandano allo Stato. Quindi un lavoro fondamentale. Ultimamente, ripeto, sono state penalizzate moltissimo perché ai tempi in cui ero Presidente di Belluno c'erano possibilità di riversare nel mondo dell'economia tutto parecchie risorse che oggi sono ridotte. Le Camere di Commercio, proprio perché hanno il polso perfetto della situazione delle imprese, delle aziende, delle partite IVA, hanno sempre avuto questa vocazione anche a rappresentare statisticamente il territorio. Sicuramente, gli istituti di ricerca all'interno danno una fotografia puntuale di quello che sta avvenendo nei vari territori e quindi questo è importante. È uno dei compiti importanti. E allora, lei adesso Presidente ha ricevuto questa delega, questo incarico relativo al turismo, è un po' l'assessore al turismo della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. L'unico consigliere che rappresenta il turismo ed è per questo, ce n'è uno solo perché sono stati ridotti e quindi ecco, è il mio ruolo questo. Il Presidente Pozza, io seguo poi le direttive di quello che può essere una politica camerale diretta da Pozza, ma questa commissione dovrà riguardare poi tutte le categorie, con rappresentanti di tutte le categorie, una commissione agile in cui noi esprimiamo quali possono essere le soluzioni per incentivare un turismo nelle province di Treviso e Belluno insieme. Negli anni scorsi in provincia di Belluno sono stati espressi molti malumori per questa fusione Treviso-Belluno, però diciamo che le fusioni costringono anche a dialogare là dove un dialogo magari non c'è. C'è possibilità di fare un percorso comune, di fare una promozione unitaria o bisognerà immaginare due percorsi diversi? No, no, per carità, deve essere unitaria. Ripeto, essendo l'unico consigliere del turismo, uno in Camera di Commercio è caduta su di noi, la scelta su Belluno, in quanto io sono bellunese, ma io mi sento bellunese, mi sento trevigiano, mi sento veneto. Quando lavoriamo, lavoriamo per un territorio, non per una piccola patria. Io mi sono sempre battuto contro le piccole patrie, non è più il tempo delle piccole patrie. Bisogna cercare di allargare gli orizzonti e soprattutto di captare tutti quei flussi turistici che vengono da tutto il mondo. E' da tutto il mondo, Belluno e Treviso, per uno che viene dalla Cina vuol dire due paesi che sono attaccati. E di certo non conosce dove va collocato il confine che arriva dalla Cina. Assolutamente no, ma il progetto, che poi è un progetto che aveva fatto già a suo tempo, l'aveva accennato l'assessore Bottacin quando era presidente della provincia, che è un percorso del Piave, è molto semplice, arrivano milioni di visitatori, speriamo a fine Covid, a Venezia. Bene, perché non organizziamo delle navette? Io le chiamo navette, chiamatele come vogliono. Libere, abbastanza libere, che vanno nella zona del Prosecco, dopo aver visto la bellezza di Venezia, nella zona del Prosecco, nei colli trevigiani, possono fare un percorso enogastronomico importante e poi fiondarsi su, fra le più belle montagne del mondo, le Dolomiti. Ecco che lì li accogliamo. Come li accogliamo? Dando la possibilità loro di sciare, magari dando tutte le attrezzature, dagli scarponi agli sci. Non è importanza fare qualche pista nera, no, no, facciamolo anche sul piano. Il cinese che arriva da Shanghai con tanti soldi si può divertire moltissimo e noi ne abbiamo un utile economico, oppure un trekking mirato per persone e per età. Quindi è tutto collegato, treviso belluno. Siamo tra l'altro in un luogo significativo in questo momento, perché questa intervista post-Covid la facciamo all'aperto, così abbiamo il distanziamento, anche se siamo vaccinati entrambi, e così ci godiamo anche non le scenografie di uno studio, ma la scenografia del nostro territorio, che è la più bella che esista. Siamo in Nevegal e il Nevegal, se si vuole, è proprio una cerniera naturale tra Belluno e Treviso. Il confine passa proprio sulle creste e se guardiamo in giù, dalle creste, vediamo Treviso, vediamo fino al mare. E se guardiamo in su, vediamo quello che c'è alle sue spalle, cioè uno spettacolo, un balcone incredibile sul patrimonio Unesco, perché dietro alle sue spalle vediamo il Cerva, Schiara, guardiamo verso il lago del Miss, i Monti del Sole, là dietro c'è Civetta, Pelmo, Marmolada, c'è tutto. Nevegal che è un posto comunque già amato e conosciuto dai trevisani. Si può fare ancora qualcosa di più, vero Presidente? Sicuramente sì, Nevegal è un colle proprio che potrebbe essere, non chiamiamola montagna, anche se il Visentin ha 1600 metri, ma è abbastanza, potrebbe essere proprio il colle dei bellunesi, dei trevisiani. E per fare questo però anche qui ci vogliono idee, soldi, ma idee prima che soldi. E soprattutto buona volontà, e meno parrocchie, più volontà di agire tutti insieme per il bene comune. Solamente il bene comune porta ricchezza ai territori. Le baruffe, le dispute, che possono essere politiche, ideologiche, o anche semplicemente caratteriali, sono profondamente sbagliate. Lei è anche uno scrittore di storia, perché lei è uno storico, ormai ha all'attivo un bel po' di titoli, e mi colpisce che lei proprio che ama guardare indietro, ci dica che dobbiamo superare l'epoca delle piccole patrie. Certo. La storia le insegna, ci insegna che è ora di voltare pagina, insomma. Dobbiamo necessariamente voltare pagina, ma non solo nella nostra piccola patria di Belluno e di Treviso. Dobbiamo voltare pagina in Italia, dobbiamo voltare pagina in Europa. I player mondiali oggi sono la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, e sta venendo avanti anche qualcun altro. E noi dobbiamo prepararci a questo cambiamento. Questo cambiamento che però può essere attraverso il turismo, e a questo punto mi lasci dire il turismo italiano, una grande fonte di ricchezza per tutta la nostra nazione. Dobbiamo sfruttarlo al meglio questo. Ancora una volta senza personalismi, senza ricerca del piccolo, ma guardando al globale. Dobbiamo pensare che Shanghai mi pare faccia 21 milioni di abitanti, e ci sono migliaia di milionari. Degli mi pare ne faccia 18 milioni e altrettanti. Basta andare a captare la gente che ha soldi in giro per il mondo e che vuole sentire il rumore del silenzio, la tranquillità dell'animo in un bosco, il vedere il sorgere del sole in una maniera senza lo smog che ci possono essere nelle grandi città. E questo che valore ha? È un valore enorme. Certo. In questa prospettiva, Presidente, immagino che lei abbia visto con favore, finalmente, l'elettrificazione del treno. La linea ferroviaria Venezia-Belluno torna diretta, diventa una linea moderna, ci mette direttamente in collegamento con Venezia, senza più un cambio di treno obbligatorio con Egliano. Sui tabelloni di Venezia torna scritto Belluno, torna scritta le Dolomiti, e questa linea mette in contatto Treviso e Belluno direttamente e li connette con Venezia. Io penso che rappresenti un passo avanti importante. Certo, è importantissimo e forse in ritardo, come in ritardo sono tutti i lavori che stanno facendo per le Olimpiadi del 26, che mi auguro veramente si velocizzino, che portino a dei risultati visibili, perché non si può pensare di arrivare alle Olimpiadi senza una viabilità adeguata. Su questo? Dobbiamo poi pensare, lei ha citato prima il mio interesse per la storia, fino a metà dell'Ottocento c'era solo la strada imperiale, quella che andava su per il Cadore. Per andare in Agordino non passava un carico, un carro, a due, perché tali erano i sentieri che un carro a due non poteva passare. Quindi noi abbiamo sempre avuto una situazione di retratezza nella viabilità. Bene, il turismo non può aspettare ancora molti anni. Deve esserci una viabilità veloce, rispettosa sicuramente del nostro ambiente, perché il nostro ambiente è il valore che noi daremo in eredità ai nostri figli ed è il valore più grande che possiamo avere. Non dobbiamo distruggerlo con opere che snaturino il tutto, ma una viabilità veloce sì. La Camera di Commercio di Treviso, Belluno, Dolomiti, come guarda al progetto di collegamento di Cortina alla rete ferroviaria? Credo che l'incontro che c'è stato recentemente a Villa Pat, nel quale si è deciso, i sindaci presenti hanno deciso con la Regione quale sarà il percorso dopo tante indecisioni, quell'incontro abbia anche rappresentato un momento di responsabilità collettiva in cui si sono un po' lasciati da parte i campanili e si è deciso per la cosa ragionevolmente più idonea, meno costosa, più remunerativa, più ecco. La Camera di Commercio su questo? Qui aspetta il Presidente e non a me. Però è turismo. Io posso parlare solamente come persona e penso che non la vedremo mai. Eh. Non la vedremo mai per 101 motivi. In ogni caso, se non vediamo questa, vediamo qualche cosa d'altro che porti una viabilità veloce sul nostro territorio in collegamento. Non possiamo pensare come adesso che per andare a Cortina da Belluno magari con i semafori e tutto quello ci si impieghi due ore o anche di più. Non è pensabile che il turista, oggi non sopporta più il turista un fenomeno di questo genere. Vuole velocità? Sì, Cortina può essere a un'ora da Belluno, onestamente. 70 km e un'ora non di più. Non di più, esatto. Ma soprattutto dobbiamo avere dei punti di attrattività nel territorio. Due sono i problemi del turismo a Treviso e Belluno ma in tutta Italia. E sono le comunicazioni ma anche le stagioni morte. Certo. Noi dobbiamo allungare le stagioni. Faccio parte di quel tavolo del Ministero sulla legge della montagna e il mio la mia sollecitazione fatta, richiesta dal presidente di questa commissione è stata proprio quella di in qualche maniera cercare di attrarre la gente fuori delle stagioni morte. Abbiamo dei picchi e poi gli alberghi perché non si fa turismo senza alberghi. Le seconde case sono come il sale cubi quanto basta ma non può esserci un paese con il 75% di seconde case perché sono solo un costo. Abbiamo bisogno di alberghi abbiamo bisogno di rifugi e abbiamo bisogno di servizi servizi di negozi di centri di prima assistenza anche sanitari non si può pensare di lasciare della gente in una situazione viaria come la nostra lontanissima da tutto che non ha un negozio di alimentari che non ha una pronta reperibilità per un'emergenza sanitaria in qualche maniera dobbiamo risolvere questi problemi perché il turismo non è solo posto è anche tutto quello che ci sta dietro il servizio e poi teniamo presente una cosa e questo probabilmente impatta molto forte anche su chi viene a comprare le seconde case da noi una seconda casa in un ambiente privo di servizi se valeva 100 vale 50 e quindi c'è una perdita secca anche per chi investe in territori che non hanno servizi ma per dare servizi si deve far sì che la gente che esercita queste attività possa vivere in maniera dignitosa possa avere dei figli e non con dei figli portarli un'ora o mezz'ora per portarli a scuola può andarli a riprendere non vede un contrasto in quello che abbiamo detto finora cioè da un lato ci vediamo immersi in un mondo globalizzato rispetto al quale abbiamo bisogno di ragionare in grande e però stiamo dicendo nel piccolo serve il negozietto certo non c'è un contrasto in questo no no non c'è il contrasto anzi chi può venire da via può essere attratto dal negozio tradizionale proprio perché è un contatto umano noi dobbiamo cominciare a pensare di mettere al centro di tutto la persona è quello che dobbiamo mettere al centro il futuro lo giochiamo con al centro la persona noi siamo degli animali snaturati finché si vuole dalla tecnologia da tutto quello che è giusta ci fa vivere meglio ma rimaniamo sempre quelli dei nostri progenitori del paleolitico quindi noi siamo quegli animali lì che hanno bisogno di una socialità e hanno bisogno di vivere in un territorio dove si sentono integrati dove sentono il vero dove entrano in un negozio e trovano una persona vera che vende prodotti veri ecco perché l'agricoltura nostra di montagna che è una agricoltura eroica con i nostri formaggi con il nostro pastin può essere un richiamo io lo dico sempre mica perché i nostri formaggi siano i migliori del mondo o il pastin sia una carne eccezionale ma perché sono i nostri e siccome non si spediscono più cartoline quando si va a fare qualche gita ecco che la cartolina è portarsi a casa qualcosa di questa agricoltura eroica che noi dobbiamo in qualche maniera salvaguardare e sulla tavola visto che lei è un imprenditore del bere e del cibo oltre a ricoprire questi ruoli di rappresentanza però il suo lavoro è sempre stato questo sulla tavola come facciamo ad abbinare Belluno e Treviso si può fare? è enorme la possibilità è enorme c'è una sinergia meravigliosa io ho avuto la fortuna di giocare per 40 anni a pallavolo il palleggiatore buono fa fare la schiacciata eccezionale il presidente Pozza che si è appena reinsediato perché è appena stato gli è appena stato riaffidato affidato alla presidenza della camera di commercio di Treviso Belluno Dolomiti tra i pochi punti programmatici ha ribadito l'esigenza di uno sbocco a nord a me piace più parlare di collegamento a nord e Pozza nella presidenza precedente nel mandato precedente non ha mai fatto mistero di immaginare un collegamento autostradale che però è difficilissimo da realizzare a me è sembrato di cogliere nel discorso del suo reinsediamento toni un po' più sfumati sul modo per andare a nord però è stata ribadita l'esigenza di andare a nord collegamenti veloci personalmente qui condivido in pieno quello che il presidente Pozza ha detto sul collegamento a nord a me piace di più una superstrada e le spiego il motivo l'autostrada a caselli quando uno entra arriva passa ma non si ferma sulla superstrada uno è più libero esce consuma sul posto altrimenti si rischia anche qui guardiamo alla tutela del territorio alla tutela del territorio guardiamo a questo però è difficile perché io che giro spesso la nostra splendida provincia mi rendo conto che da una parte c'è il burrone dall'altra c'è la montagna anche una superstrada fa fatica una una comunicazione veloce presidente ci basterebbe anche una strada una strada però veloce una strada veloce lei prima diceva la ferrovia fino a Cortina non si farà mai però a me verrebbe da dire se si punta all'autostrada non si farà mai è proprio per quello che io dico abbiamo bisogno di un collegamento a nord comunque dobbiamo uscire da questa impasse assolutamente perché altrimenti noi ci un collegamento a nord serve e anche in forma veloce sai qual è il problema della provincia di Belluno che siamo in pochi siamo in pochi contiamo poco dobbiamo far capire e qui è il ruolo del turismo importante che un collegamento veloce genera ricchezza che viene mandata in tutta Italia dobbiamo far capire che il turismo non porta ricchezza a Belluno o a Treviso porta ricchezza reale all'Italia certo è questo che noi dobbiamo far capire e sarà un bene sempre più prezioso nel futuro se come dicono c'è un innalzamento delle temperature in estate e la gente cerca di scappare a nord noi siamo qui noi siamo qui pronti noi siamo qui però dobbiamo farci trovare pronti siamo qui ma non è detto che siamo pronti senza campanilismi senza campanilismi di valle o di categoria dobbiamo lavorare tutti con un obiettivo comune lei fa riferimento ai cambiamenti climatici diciamo che la montagna è favorita anche nel dopo covid se lo sapremo comunicare se non saremo in contrasto l'un l'altro ma tutti insieme per il territorio di Treviso e di Belluno certo Presidente sempre su questo tema covid la porta a una questione di attualità si discute sull'obbligatorietà del Green Pass per l'accesso ai teatri l'accesso ai treni l'accesso agli aerei cioè le discoteche ma anche i ristoranti addirittura io sono rimasto colpito perché a livello nazionale la cosa ha subito assunto le solite coloriture e contrapposizioni politiche però le prese di posizione dei nostri operatori in provincia sono favorevoli la vedo che il Green Pass deve essere fatto e tutti devono essere vaccinati qualcuno dice libertà alla vaccinazione io dico no anche questo è un pensiero mio perché se uno non vuole vaccinarsi contro il tetano sono affari suoi peserà sulla sanità pubblica ma sono affari suoi ma se uno non si vaccina contro i covid non sono affari suoi sono anche affari miei perché io non so chi sia il non vaccinato e nel momento in cui non lo so lui mi può infettare e quindi no a operatori sanitari non vaccinati no a insegnanti non vaccinati e qua bisogna anche avere il coraggio di fargli perdere il posto o di metterli in una situazione molto semplice se ti amali ti paghi tutto noi in Italia abbiamo fatto una campagna l'hanno fatta chi l'ha fatta in particolare Genare Filiolo e i vari governi che abbiamo avuto eccellente perché siamo ai livelli e anche il Veneto guardate che è a livello fantastico però abbiamo il mondo e torno ancora una volta la comunicazione globalizzata può portare che uno dall'India arriva qui e tac magari con una variante noi facciamo quello che si può tutti si devono vaccinare la categoria che io rappresento in maniera particolare bar, ristoranti alberghi e rifugi è quella più colpita da questa pandemia perché tutte le altre categorie vuoi con la legge 110 vuoi con la necessità di ristrutturazioni in qualche maniera hanno lavorato noi siamo quelli più colpiti di tutti quanti e proprio per questo che io dico ci deve essere una regola molto serrata io porto ancora la mascherina e la porterò probabilmente per tutto l'anno sicuramente dobbiamo avere rispetto per noi stessi ma anche per gli altri di ristrutturazioni che ci sono che ci sono anche per gli altri che ci sono che ci sono